Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Scuole riapriranno domani in Campania, questo quanto deciso in ultima ordinanza dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. I sindaci però hanno forti dubbi e perplessità su questa riapertura. Infatti il sindaco di Torre del Greco e il sindaco di Torre Annunziata hanno già predisposto la chiusura delle scuole fino a dicembre. Tradizionale punto Covid sulla situazione nel Vesuviano, con un boom di guarigioni a Torre del Greco, una situazione che sembra migliorare anche a Castellammare di Stabbia. L'emergenza Covid invece ha portato via a Torre del Greco un professionista come Luigi Pappalardo. Oggi abbiamo incontrato Pasquale Delprete, presidente del Rotary Club di Torre del Greco Comuni Vesuviani, per ricordare l'amico e professionista scomparso a causa del Covid. Passiamo ora alla cronaca con i carabinieri che hanno arrestato sette persone che si sono rese colpevoli di furti d'auto su tutta la provincia di Napoli. La Guardia di Finanza invece ha sequestrato 14.800 mascherine non a norma e pronte per essere messe in commercio. In conclusione, un argomento più leggero, un encomio a un pasticcere di Torre del Greco che è campione del mondo per il suo panettone nell'anno 2020. L'encomio consegnato dal sindaco nel rispetto dell'enorme anticontagio. Questo e molto altro nei nostri servizi. Si è sciolta ieri la riserva sulla riapertura delle scuole in Campania. Lo scorso 14 novembre il presidente De Luca aveva annunciato il ritorno alla didattica in presenza dei servizi dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria a partire al 24 novembre. Premi a effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni. Il primo a sollevare dubbi sulle riaperture è stato lo stesso governatore nella diretta ai venerdì scorso in cui ha annunciato che non avrebbe riaperto con dati preoccupanti. Invece ieri la conferma con l'ordinanza numero 92. Scuole dell'infanzia e le prime elementari torneranno in classe da domani, 25 novembre. Tuttavia molti genitori hanno espresso preoccupazione nel mandare figli a scuola mentre in ondata epidemica ancora numeri alti e la Campania resta ancora in zona rossa. Perplessità condivise anche da numerose amministrazioni locali che dovranno organizzarsi per mettere in sicurezza gli istituti scolastici. L'Anci Campania aveva raccolto tali richieste in una lettera inviata a De Luca in cui si domandava appunto l'opportunità della riapertura in questo periodo. Queste perplessità si sono tramutate infatti, o meglio, in ordinanze dato che ai sindaci è data comunque facoltà di limitare l'apertura delle scuole sulla base dei dati epidemiologici locali. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha deciso di tener chiuse le scuole fino almeno al 5 dicembre. E' una fase complessa come più volte in più sedi ribadito, commenta il primo cittadino, per la quale scegliamo la linea della cautela e della prevenzione. Della stessa opinione il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, che con ordinanza ha chiuso le scuole fino al 30 novembre. E' probabile che nelle prossime ore altri comuni seguiranno la linea della cautela per non rischiare il ritorno fra i banchi incerto senza poter garantire la sicurezza di insegnanti, famiglie e soprattutto dei piccoli alunni. Boom di guarigioni a Torre del Greco, dove si sono registrati 124 nuovi guariti nella giornata di ieri. Comunicati anche 46 nuovi casi di positività a Covid-19, di cui uno in regime ospedaliero ed i restanti 45 in isolamento domiciliare. Effettuati inoltre 175 tamponi, i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni. Muta quindi il numero dei positivi, con 956 soggetti in isolamento domiciliare e 19 ospedalizzati. A Torre Annunziata 32 i nuovi casi di contagio da Covid-19. Al contempo si registrano anche 74 guarigioni ed un dicesso. 417 i cittadini attualmente positivi, 410 i posti di isolamento domiciliare e 7 ricoverati. Sale 871 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 441 guarite e 13 decedute. Dispetto ai giorni scorsi, si registra anche a Castellammare di Stabia un calo dei nuovi positivi e nuovamente un alto numero di guariti. Il numero delle persone risultate positive al coronavirus nella giornata di ieri è 40. Tra essi solo un cittadino presenta sintomi lievi della malattia. Contaggiati alcuni giovanissimi, tra cui due bambini di 5 anni e quattro ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 326 tamponi. Buone notizie infine per 29 stabbiesi che sono risultati negativi al tampone di controllo e sono stati dichiarati guariti. Medico devoto alla sua professione al punto da dedicare il suo impegno sociale alla cura delle persone più deboli. Lascia un voto nella famiglia che tanto amava e nella comunità da cui è stato sempre stimato. La cittadinanza di Torre del Greco è ancora a lutto per la perdita del dottor Luigi Pappalardo, sconfitto dal covid-19 in un mese di malattia. Direttore del centro di diabetologia del Bottazzi è stato un professionista stimato a pazienti e conoscenti. Il medico 62enne era particolarmente attivo nel sociale come membro del Rotary Club. Abbiamo incontrato Pasquale Del Prete, presidente del Rotary di Torre del Greco Comuni Vesuviani, per ricordare l'allevatura umana e professionale dell'amico scomparso. Luigi è stato sempre una persona moralmente ineccepibile, una persona sempre tesa ad aiutare chi aveva bisogno. alle prime avvisaglie di questa nuova pandemia del covid-19 è stato quello che ci ha sempre spronati ad essere prudenti, ad avere responsabilità e a limitare quanto più è possibile i contatti in presenza e adottare uno stile di vita quanto più salutare possibile. Tra l'altro, lui, essendo responsabile del centro di diabetologia del Plesso Bottazzi, tutti i giorni era a contatto con le problematiche derivanti dall'aggravamento delle condizioni mediche e delle organizzazioni che in qualche modo doveva far fronte a questa emergenza, quindi continuamente ci teneva realmente in guardia, ci metteva in guardia. e proprio lui ha sempre utilizzato e adottato uno stile di vita ineccepibile essendo un salutista, un vegetariano è stato diciamo una guida per noi nei primi momenti proprio per metterci in guardia da questo nemico subodolo. Il presidente ha raccontato dell'impegno di Pappalardo come membro attivo del Rotary Club. era rotariano dalla betà degli anni 90 e ha ricoperto nell'ambito del Rotary Club di Torre del Greco quasi tutte le cariche diventando anche presidente nel 2009-2010. Un ruolo che il medico ha utilizzato per la sua vocazione professionale cercando sempre di aiutare le fasce della popolazione più a rischio. Luigi è stato sempre tra i promotori essendo lui in prima linea sul campo nelle domeniche che abbiamo organizzato per la sanità quindi lui ha offerto insieme a tanti altri colleghi medici la sua opera sempre chiaramente a titolo gratuito per fornire un'assistenza specialistica alle persone e alle classi sociali in particolare meno avvantaggiate. Quest'anno nelle prime avvisaglie delle difficoltà emergenti a causa del Covid-19 si è fatto promotore proprio per raccogliere dei fondi da destinare a pacchi alimentari e pacchi medici presso delle farmacie di Torre del Greco per noi ha sempre rappresentato l'anima più buona più vicina al prossimo. Dopo questo lutto è riuscito a sentire anche la famiglia del dottore? Con la famiglia ci siamo visti chiaramente per i funerali che si sono svolti in forma molto ridotta si è percepita tutta la vicinanza sia dei rotariani ma dell'intera comunità ed è emerso e non poteva essere diversamente la tragedia che si è venuta a creare in una famiglia molto unita Come pensate di commemorarlo in futuro? Si penserà a un premio o una borsa di studio da dedicare alla figura di Luigi per quello che ha fatto come rotariano per quello che ha fatto come medico quello che era come uomo Sono tanti medici e operatori sanitari che hanno perso la vita in questa pandemia un ricordo per tutti questi professionisti I medici di base sono quelli che sono in prima linea perché è il primo contatto che il paziente il malato ha sul territorio e quindi veramente svolgono un lavoro eccezionale con assenza di mezzi questo credo che sia emerso in tante altre occasioni a loro va un ringraziamento particolare ai medici di base agli specialisti agli ospedalieri agli infermieri tutto il corpo sanitario fanno un lavoro veramente eccezionale il senso di responsabilità deve avere la prevalenza su tutti gli altri sentimenti e su tutte le altre convinzioni la responsabilità di tutti per la salute nostra e per la salute di tutti i carabinieri della stazione carabinieri di Chiaia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di sette persone gravemente iniziate di associazione finalizzata al furto e alla recettazione di veicoli gli indagati tutti gravati da precedenti residenti nell'area vesoviana avrebbero commesso tra aprile e dicembre 2018 una serie innumerevole di furti di autovetture tra Napoli e provincia e nel territorio agronocerino sarnese le indagini hanno preso il via proprio a seguito di un furto di un veicolo di grossa cilindrata sulla via riviera di Chiaia di Napoli i carabinieri hanno individuato la targa dell'autovettura utilizzata dagli autori del furto arrivando ad esito delle indagini a raccogliere gravi elementi sull'esistenza di una vera e propria struttura organizzativa che con una specifica distribuzione dei ruoli tra gli associati si occupava di individuare le autovetture da rubare per disporre tutti i mezzi e gli strumenti necessari ed infine eseguire materialmente i furti i reati predatori venivano commessi utilizzando sempre la stessa tecnica consistente nella preventiva ricerca di un'autovettura parcheggiata in strada da trafugare una volta individuata veniva forzato il meccanismo di accensione del veicolo infine l'autovettura rubata guidata da uno dei complici si allontanava scortata dagli altri e veniva ricoverata in capannoni preventivamente i vergini con cui sostituire le originali telecomandi jammer e dissuasori per i sistemi di allarme e di rilevazione gps il comando provinciale della guardia di finanza di napoli ha sottoposto a sequestro nella zona industriale del capologo quartiere gianturco 14.800 dispositivi sanitari non a norma pronti per essere messi in vendita in particolare le fiamme gialle hanno riscontrato che tutte le mascherine chirurgiche erano prive del numero dell'ente garante della conformità delle indicazioni commerciali nonché delle istruzioni obbligatorie in lingua italiana si tratta sia di mascherine chirurgiche sia del tipo KN95 segnalato alla camera di commercio il titolare un 46N di origine cinese per violazioni al codice del consumo si è svolta questa mattina a Palazzo Baronale la cerimonia di consegna dell'encomio al pastri-chef Luigi Vitiello il pasticcere torrese classe 1965 è stato insegnito lo scorso 25 ottobre a Cinecittà World a Roma del titolo di campione mondiale medaglia d'argento nella categoria per il miglior panettone del mondo 2020 un curriculum vasto ed articolato che gli ha permesso di maturare un'esperienza ampia e consolidata nel settore della pasticceria partecipando non soltanto a numerose chermesse di respiro internazionale ma lavorando anche in prestigiose realtà ed eccellenze nazionali a consegnare riconoscimento il primo cittadino di Torre del Greco nel pieno rispetto e le normative anticontaggio un titolo prestigioso ed importante commenta il sindaco Palomba un'occasione di gioia per la città di Torre del Greco e per l'intera comunità nonostante il delicato momento sociale che tutti stiamo vivendo sono veramente orgoglioso di far parte diciamo della pasticceria perché è stato il sogno che mi ha trasmesso mio padre già che era fuoco sul marittimo e mi ha dato la soddisfazione di riapprendere il nostro lavoro perché veramente mi piace molto questo lavoro sono soddisfatto perché facciamo dei sacrifici perché sono sacrifici che si fa nei nostri laboratori che veramente ci vuole tempo e sono veramente stamattina più contento che è stato dedicato dal sindaco dalla città dove io abito e sono guidoso di Torre del Greco e ho portato un palentone classico con uvetti e canduti con del burro zucchero di mia madre e tutte queste cose e siamo veramente stata una bella soddisfazione perché abbiamo condotto anche diciamo questo camadetto di rustiche siamo andati a Roma ci siamo visti con tanti amici l'unica cosa che ci siamo dovuti abbracciare grazie alla PIP che ci ha permesso diciamo di stare bene insieme a tutti gli amici speriamo che il prossimo anno ci farà di nuovo quello che abbiamo dovuto fare quest'anno lo facciamo il prossimo anno grazie per la cortese attenzione per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484 e con questo è veramente tutto a domani con nuovi servizi